Il Carnevale a Napoli ha una grandissima tradizione, tutti ricorderanno le grandi feste organizzate da Carlo di Borbone e gli alberi della Cuccagna in città. Questa amministrazione intende rinnovare questa tradizione. Si svolgerà il 18, 19 e 21 febbraio fra il Mann e la Galleria Principe di Napoli la rassegna Sottencop, presentata questa mattina a Palazzo Cavalcanti, per festeggiare un carnevale sonoro con la musica internazionale di provenienze e generi disparati. Accanto ai tanti carnevali che le municipalità e i quartieri organizzano e che sono una ricchezza di questa città, ci è sembrato importante realizzare un carnevale del Comune di Napoli. Lo abbiamo realizzato ricorrendo in particolare alla grande seduzione che viene dalla musica con un programma di interventi musicali di grande virtuosismo, un carnevale sonico che affida al fragore dei suoni, alla contaminazione dei generi musicali, il principio fondamentale del carnevale che è appunto quello di divergere, di rovesciare, sia pure temporaneamente, un ordine costituito e degli schemi prefissati. Artisti che provengono da mondi musicali molto diversi, quindi dall'electro jazz all'afrofuturismo, passando per la sperimentazione, il pop, fino ad arrivare a musicisti tradizionali che rivisitano la tradizione attraverso tecniche stese, tecniche nuove, e anche col coinvolgimento di strumenti di inaudita bellezza come la Ghironda, come il Tomba Chiraniano. Quindi i musicisti vengono veramente da tutto il mondo, naturalmente con una quota napoletana importante, e permetteranno in qualche modo di invitare la cittadinanza ad un'avventura di carattere sonoro, che è sì intrattenimento, felicità e coinvolgimento, ma è anche in qualche modo una sfida. Fra gli artisti che si esibiranno, Mattias Loibner, Mohamed Reza Mortazavi, Marina Erlop, Davide Ambrogio, Katu Diosis, il collettivo congolese di Fulu Mitziki. Ci saranno anche laboratori per bambini, con Francesco Cavaliere e Rie Nakajima. Gli eventi sono a ingresso gratuito, in qualche caso è richiesta una prenotazione. Questo è il primo carnevale di Napoli che il sindaco Manfredi ha fortemente voluto per caratterizzare quella che noi chiamiamo l'offerta culturale continua, oppure un palinsesto culturale continua, che dall'estate e poi dall'autunno, attraverso il Natale e il Capodanno, adesso arriva al carnevale. La partecipazione di artisti di tutte le nazionalità è proprio il connotato di questo evento. Quindi aprirsi al mondo, aprirsi alla città, è questo che Napoli ha sempre fatto e dovrà continuare a fare.